Bella ragazzi, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video Ragazzi, lo so, oggi non sto registrando la intro e anche l'outro con la fotocamera, con la camera come al solito In full cam, questo perché perché ho avuto un problemino con la fotocamera eccetera eccetera Quindi per oggi non ci sarà una intro in full cam e un'auto in full cam come al solito D'altro lato ragazzi, vi ho fatto votare per scegliere quale squadra fare, con quale budget Avete votato in tantissimi 200.000 ma ho visto molta divisione tra diversi budget Quindi ho scelto di fare una leggera via di mezzo, ovvero due squadre da 250.000 crediti Sono 50 e più di 200.000 quindi vuol dire che se avete 200.000 potete comunque mirare a fare queste squadre Magari cambiando un giocatore e sapete già anche che step fare dopo Mentre per quelli che magari hanno 300.000 possono prendere più spunto eccetera eccetera Quindi fatemi sapere nei commenti quale budget volete per il prossimo episodio Scrivetelo nei commenti, a breve uscirà anche il faccio delle vostre squadre Quindi se volete la vostra squadra nell'episodio lasciatela nei commenti E mi raccomando lasciate tanti like e iscrivetevi al canale Partiamo comunque dalla prima squadra ragazzi, la prima squadra è questa qui Come al solito ragazzi votatemi in chat quale preferite, se nei commenti team 1 o team 2 Partiamo dal portiere che è Ariola Ariola è il portiere di questa squadra, un portiere che uso anche io ormai da 85 partite Un metro e 95, tradizionale a livello di statistica è messo bene Ha bisogno come stile inteso a base Perché di base c'è molto forte ma con base arriva una media di 90 di tutti i valori Dicevamo prima che saltasse riserve Ariola è sicuramente un ottico portiere Arriva in media 90 e quindi già di base è ottimo Poi abbiamo Munier, Munier che rimane come ogni anno, come negli ultimi due o tre anni Un ottimo terzino perché è per caldo un metro e 91 Ha 4 di piede debole, questo è molto importante nella fase di impostazione a manovra In particolare quest'anno dove abbiamo notato ragazzi che effettivamente I giocatori sbagliano tanto in termini di passaggi e di conseguenza avere uno con i Munier Che sbaglia poco è importante Comunque è veloce quindi un'ottima velocità per il campo di accelerazione Per questo è meglio mettergli forse un'ombra perché di fisico sta bene Vediamo che comunque 85 forza fisica, 92 resistenza, elevazione decente ma non ottima Quindi direi che avete due opzioni in termini di incidenti Dato che la difesa pure ha bisogno di aiuto O ancora che da quindi elevazione, difesa e accelerazione O ombra che vi darà più accelerazione ma non vi darà elevazione Quindi vedete voi Rimane un terzino equilibrato quindi buono i passaggi Anche un discreto tiro, un ottimo cross e un buon controllo del pallone Pecca anche però in equilibrio e agilità ma un'ottima forza fisica ed è anche alto Quindi va bene così Poi abbiamo Abdou Diallo o Abdou Diallo non sono sicuro 1,86 m, 3 piedevole termossabilità 76-78 in termini di velocità e accelerazione Il dribbling è descreto, non ha un gran che di equilibrio ma è abbastanza agile Contro le palle decente, abbastanza freddo In termini difensivi è equilibrato Guarda il classico baggatone, non c'è nulla in particolare La statistica migliore che ha l'elevazione Diciamo che per temporeggiare finché non sia nei crediti per Marchignos va bene Poi abbiamo Kim Ben-Pè, 1,89 m, buggato ormai da un po' Velocità buona, anche lui è equilibrato in difesa Un po' più forte in particolare nel termine del fisico Perché è 84 forza fisica e comunque più alto eccetera eccetera Quindi di base è ottimo Poi abbiamo Roussillon, Geram Roussillon, 1,75 m Quest'anno il fatto che non sia tanto alto non è così rilevante Perché abbiamo notato che di colpi di testa non se ne segnano chissà quanti Di conseguenza il fatto che abbia settature di elevazione è una pecca Ma non esagerata almeno per l'inizio del gioco Poi se più avanti usciranno dei bug che ci fanno capire che è necessario avere un giocatore che stacca di testa Andremo a virare e cambiare tipo di terzino Però è molto veloce, è equilibrato in difesa Forza fisica decente, è resistente, ha dei piedi buoni Quindi mi sembrava un'ottima opzione Poi abbiamo Axel Witzel, 4 piedevole e 4 massi abilità Per me questo è un giocatore fortissimo Difensivamente è forte, tutto da 80 in su Fisicamente è forte fisicamente, una buona resistenza Elevazione decente, alto 1,86 m In termini di dribbling, pecca in equilibrio e agilità Controllo pallare attività e freddezza sono ottimi, il dribbling è decente Passaggio perfetto, 89 passaggio crotto, 84 passaggio lungo È quello che mette qualità in centro campo ma fa anche la sua parte in difesa Il tiro è discreto, una buona velocità Io gli metterei qualcosa tipo un motore per dare l'accelerazione Qualcosa nel dribbling e qualcosa in passaggio anche se non serve Se non sbaglio il motore da queste tre Però di base ha bisogno in velocità e in dribbling Al massimo può avere bisogno magari un po' di testa ma va bene così Poi abbiamo Timo Werner che è il giocatore attorno alla quale ho costruito questa squadra Che per me è un giocatore fenomenale, 1,80 m, 4 piede, 3 massabilità Velocissimo, io l'ho avuto contro ed è veramente ragazzi un dito nel culo Cioè lo dico chiaramente perché corre un sacco Ha 65 forza fisica ma sembra avere 92 Non lo sposti, 83 di resistenza, 72 di elevazione E anche lì sembra forte di testa È strana come carta, ottima finalizzazione, quella si vede Il dribbling pure è ottimo Vi assicuro che in game tutte queste caratteristiche rendono 100 volte tanto Io ogni volta che l'ho avuto contro mi ha fatto veramente bestemmiare Poi l'ho noto più a debole, non è uno skiller ovviamente Poi abbiamo Goretzka, Leon Goretzka, 4 piede, 3 di massabilità, 1,89 m Veloce, equilibrato sotto ogni punto di vista Passaggio, difesa, fisico, dribbling Fa tutte e due le fasi bene, non è celle in nulla di particolare Però è una carta veramente forte e alto Insomma fa sicuramente una sorta di mini gullit senza massabilità E con le statistiche ovviamente proporzionate a un livello più basso Poi abbiamo Jadon Sancho, non sono sicuro come si legga il nome 3, 4 piede, 5 massabilità, velocissimo Dribbling incredibile, resistente, abbastanza Passaggi buoni ma non eccezionali Non è che anche nel tiro È uno dei giocatori copertina di quest'anno E anche per questo in realtà in game rende molto ma molto di più Quindi straconsigliato, a me piace veramente tanto Ed è uno dei due giocatori su cui ho fatto girare questa squadra Poi abbiamo Kai Avertz, 4 piede, 4 massabilità Mancio, normale, normale, 1,88 m Velocità scatto incredibile, non anche l'accelerazione ma va bene Il tiro decente, un'attiva finalizzazione Passaggio ci sta Il dribbling pure per campagna e equilibrio agilità Resistente, mi aspettavo un po' più di testa, di forza fisica Ma in game anche lui è un altro di quelli che rende un po' di più Poi abbiamo Kingsley Coman Come alternativa c'è Perisic se mi piace di più 4 massabilità, 3 piede debole Velocissimo, il dribbling è incredibile Sono le due caratteristiche sulla quali mi soffermo Perché per il resto in realtà è un giocatore normale Poi abbiamo nessun altro perché in realtà questa è la squadra Così è come metterlo in game per avere al massimo di intesa Poi ovviamente per giocare con questa squadra cambieremo il modulo Ci sono due tipi di moduli che potete usare con questa squadra Il primo è il 4-2-3-1, cioè i due che consiglio io personalmente Abbiamo davanti ovviamente Werner dall'alto delle sue lunghe leve Sancho da una parte Dall'altra giochiamo con Coman Come C.O.C. mettiamo a Verz Poi meglio mettere a sinistra o a destra Coman o Sancho Anche un po' una scelta vostra perché sono uguali Vizzele destro Goretzka è destro Operatera è Goretzka a sinistra E nulla, la userei così In alternativa, che è l'altro modulo che sto usando in questo periodo, è il 4-4-2 Il 4-4-2 ragazzi, però non questo ma quello contenimento Userei sempre i giocatori più o meno in queste posizioni Davanti, l'unica variazione, userei a Verz insieme a Werner E dato che è molto forte il tiro sul primo palo Metterei a sinistra Goretzka e a destra Werner E guardando così la squadra mi sto rendendo conto che potete anche partire Già direttamente così con la squadra per avere tutti a massimo di intesa Se usate il 4-4-2 di questo tipo Seconda squadra, partiamo subito Vi faccio vedere quest'altra Mi raccomando, ricordate di scrivere nei commenti quali tra le due preferite Che cambiamenti fareste E mi raccomando ragazzi Fatemi sapere come migliorare questa serie Trasciate questi episodi che è senza cam e varie robe Comunque, arriva in porta L'abbiamo già descritto prima Quindi non mi ci soffermo Sicuramente è un ottimo portiere Monier di nuovo Diciamo che ci sono alcuni giocatori simili Perché secondo me su questo budget sono le migliori scelte Kimbembe di nuovo Quindi stesso difensore Nuovamente un difensore equilibrato Così come Diallo Ovviamente Kimbembe è il più forte di Diallo E poi primo giocatore nuovo Benjamin Mendy Tre piedevole termossabilità Velocità scatto 85 Accelerazione decente Difesa abbastanza equilibrato Pecca di testa Forza fisica 79 Non è un gran che di elevazione Diciamo che è il classico terzino starter Che è forte Cioè che è equilibrato Ma non eccelle in nulla Però in game Secondo me fa il suo Poi Oltre a Mendy abbiamo Di nuovo Jadon Sancho Quindi anche lui L'abbiamo già visto prima Velocità Dribbling Bla 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 Poi abbiamo Dilaney A differenza di prima Quattro piedevole Tre dimossabilità È veloce Una buona accelerazione In difesa è fortissimo Resistente È fortissimo di testa Forte fisicamente Abbastanza Dribbling Pure discreto La carta veramente assurda I due mediani Quest'anno del Borussia Sono assurdi Poi abbiamo Liengaard Lui è temporaneo Lo dovrete sostituire Quando avrete i crediti Temporaneamente Terrei lui Che è alto 1,75 Quattro piedevole Cioè tre piedevole Quattro massabilità Velocità decente Tiro equilibrato Bravo nel dribbling Passaggi Giusto il passaggio corto È sicuramente resistente È una carta In realtà in game Un po' più buggata Di quello che leggiamo Ma diciamo che Per iniziare O perlomeno per adesso Può starci Anche perché abbiamo Felipe Anderson Quattro piedevole Quattro massabilità 1,75 Accelerazione veloce Il dribbling È assurdo Abbastanza resistente Passaggi decenti Tiro ci sta Un giocatore Che secondo me Ha come eccellenza Il dribbling E la velocità Ma in generale È forte sotto ogni punto Di vista Poi abbiamo Di novizel Che abbiamo già visto prima E infine Marcus Rashford Che è il giocatore Attorno alla quale Costruito la squadra Perché costa tanto Ma secondo me È uno dei giocatori Più validi Diciamo Entro 100k 5 massabilità 5 massabilità 4-3 di piedevole Alto Velocissimo Potenza tiro Assurda Finalizzazione Ci sta Potenza Posizione offensiva Ci sta Pecca nel passaggio A parte l'effetto Però Non è che è lì Per passare il pallone Anche se I passaggi Grotti Farai Li farà Decenti Per esserli Per segnare Per dribblare Un'ottima resistenza Pecca un pochino In elevazione Ma Sicuro stacca Forza fisica Decente Un'ottimo giocatore Secondo me Così è come La dovete mettere Per avere Il massimo Di intesa Lingard A triplo Intesa A Rashford Qua ci potrebbe Essere in un futuro Pogbaia Al posto magari Di uno Travizel E di là Nei mettete Royce Per dire Per darvi Un paio Di spunti Sul futuro E in difesa Ovviamente Ho un marchigno Se scambiate Diallo E Kimbe Ci sono tante Possibilità Comunque Però Diciamo che Questa è una Buona rosa Da cui partire Per poi ovviamente Costruire Alla rosa Effettivamente Che andrete A utilizzare Questa rosa Per me Ha una sola Possibilità Per lo meno Finché non Avete credito E prendere Pogbaia Royce Ovvero Il 4-2-3-1 Questa è una rosa Proprio adatta A fare il 4-2-3-1 Giocate con Lingard Come il C.O.C Giocate con Rashford davanti Giocate con Felipe Anderson A sinistra E Sancho A destra Con poi Vizzele Di Lane A centrocampo E Di Lane Lo mette a sinistra Perché Mancino Vizzele a destra Fatemi sapere Nei commenti Se vi è piaciuto Questo episodio Se vi piacciono Le due squadre Che vi ho proposto Purtroppo Non avevo modo Di registrare Con la full cam Scusatemi Perdonatemi Spero comunque Vi siano state utili Ricordate di votare Nei commenti Quale budget Volete per il prossimo episodio Passate agli ultimi video Per istruzioni E tattiche C'è il mio ultimo video Quindi se volete Vedere Andatelo a vedere Dal video Dove c'è la mia squadra E nulla ragazzi Ci vediamo Nel prossimo video Bella a tutti